Ben trovati, ben trovati a TGTG, telegiornali a confronto. Oggi i telegiornali fanno rivivere un'espressione che sembrava un po' passata di moda, ma poi sarà davvero così, autunno caldo. Il riferimento è agli scontri avvenuti stamattina in piazza a Roma tra alcuni lavoratori delle acciaierie di Terni che rischiano di perdere il posto di lavoro e le forze dell'ordine. Questo è il tema principale, l'apertura per quasi tutti i telegiornali. Ci chiederemo se questo episodio specifico è la spia di qualche rivolgimento economico, sociale in atto. Siamo ormai da lungo tempo in un periodo di crisi, siamo in un momento in cui è particolarmente aspra la dialettica tra governo e sindacati. Cercheremo di approfondire questi temi in compagnia di Serena Assi Leoni, vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Buonasera. L'Istituto Bruno Leoni, per chi non lo sapesse, è una sorta di think tank, un laboratorio di idee, possiamo dire così, di impronta liberista, anche se le etichette forse non vi piacciono molto, orientata al libero mercato, alla concorrenza e insomma al realismo economico. Possiamo accettare questa sintesi? Sempre nel presupposto che le idee sono la base della realtà, quindi... Benissimo. Andiamo adesso subito a tuffarci nell'attualità, abbiamo anticipato la notizia principale di oggi, vediamo le altre che ci propone la scaletta del Tg1. Cominciamo. Roma, scontri al corteo delle cegherie di Terni, feriti quattro operai, contusi alcuni agenti, ira di Landini, vergogna. Vogliamo spiegazioni. Il governo entrò stasera, verifiche su quanto accaduto in piazza, Alfano incontra i sindacati al Viminale, Beleni, Trapiddi e CGL. Il commissario europeo Katainen, dall'Italia riforme importanti, ora le attu, i Renzi vede i sindaci, modifiche, ma saldi invariati. Fiat Chrysler scorpora Ferrari e colloca in borsa il 10% della società di Maranello, l'annuncio di Marchion nel titolo vola. Menzionato uccide la moglie mentre le figlie dormono nella stanza accanto e si costituisce, lei 30 anni più giovane voleva lasciarlo. In vigilia esplode, dopo il decollo, il razzo della missione NASA diretto alla Stazione Spaziale Internazionale, a bordo solo rifornimenti. Queste dunque le scelte del Tg1 di questa sera, partiamo naturalmente dall'apertura, dalla notizia del giorno. Che riflessioni le suscitano quelle immagini di scontri in piazza, al di là della dinamica? Ovviamente abbiamo sentito che il governo cercherà di fare chiarezza su quanto avvenuto. Ci troviamo nuovamente in una fase di autunno caldo. Che periodo stiamo attraversando? Non credo, per due motivi. Prima di tutto perché episodi di frizione, anche violenta, ci sono sempre stati fondamentalmente nella nostra storia, ma anche nella più recente. Ogni volta abbiamo temuto il ritorno dell'autunno più caldo che possiamo aver avuto, poi le cose si sono sempre un po' sciolte da sé, con un po' di mediazione. Secondariamente è stato un episodio, con specifico riguardo a quello che è successo oggi, è stato un episodio un po' particolare, non è stata una manifestazione ordinaria. È nato tutto in maniera spontanea, imprevista, imprevedibile, da parte sia dei manifestanti che delle forze di polizia. Quindi generalizzarla su uno scontro che sta avvenendo tra governo e sindacati rischia forse di essere fuorviante e di inasprire una questione che credo sia piuttosto isolata. Ecco, proviamo dunque ad allargare un po' lo sguardo, prescindendo appunto dalla specifica situazione di oggi. Abbiamo visto, ma lo stiamo vedendo molto spesso in questi giorni, ergersi a protagonista, a contraltare polemico del governo, il segretario della FIOM CGL, Maurizio Landini, di cui qualcuno preconizza un futuro in politica. Sta davvero emergendo questo profilo di avversario, tra virgolette, per un Renzi che invece sembra ben al centro della scena politica in questo momento? Beh, quella che lui rappresenta è la parte sindacale più aspra, più intransigente e quindi è ovvio che rispetto a un indirizzo politico che si mostra un po' meno prono rispetto al potere sindacale di quanto non sia stato negli ultimi anni, questa parte qui è quella che alza la voce. Non so quanto posso essere rappresentativa della realtà lavorativa, certo mi aspetto che sia quella in questo momento in prima linea contro un governo che ha avuto parole anche molto forti nei confronti del sindacato e del sindacalismo. E vediamole queste parole forti, alcune le abbiamo già intraviste nel TG1, ma i titoli del TG5 proprio partono da questa polemica tra governo e sindacati. Rivediamoli insieme. Camusso, Renzi al governo, grazie ai poteri forti. Pina Picerno del PD reagisce, tu eletta con tessere false e la piazza riempita con pullman pagati. Poi si scusa, ma la polemica monta. Il sindacato indignati da queste falsità. I metalmeccanici delle acciaierie ThyssenKrupp di Terni protestano davanti all'ambasciata tedesca e poi tentano di rompere il cordone. La polizia carica, feriti quattro operai e altrettanti agenti. I leader della FIOM, Landini, picchiati senza motivo. La questura hanno tentato di occupare la stazione Termini. Il governo verificheremo. Renzi incontra i comuni contrari alla manovra. Fassino peserà per 3,7 miliardi, molti a rischio dissesto. Il premier, pronti a discutere, ma a saldi invariati. Faremo la local tax. Sulla legge di stabilità, un primo sì da Bruxelles, che però avverte, non sono escluse altre procedure. Fiat, Chrysler e Rotomobils, fresca di quotazione a New York, decide lo scorporo della Ferrari. In borsa andrà il 10% e i titoli del gruppo volano. Marchionne è la scelta giusta. Il cane è stato un CDA storico. I gerovesi alluvionati ora rischiano di pagare anche i costi salati dell'acqua usata per ripulire case e negozi dal fango. L'azienda fornitrice si limita a rispondere. Non verranno applicati gli interessi di Mora sulle bollette pagate in ritardo. I genitori di Elena Ceste non si sono mai accorti di un disagio tale da portarla al suicidio. Parlano i legali della famiglia e ammettono. Sarà molto difficile dimostrare come è morta. Trovati altri resti della donna. Ecco, abbiamo visto TG5 aprire su questa polemica sui poteri forti, possiamo dire così, tra governo e sindacati. Ecco, forse il sindacato in altre stagioni della nostra storia è stato un potere forte, o meglio con un forte potere di interdizione. Oggi sembrano un po' mutati i tempi. Che ne pensa? È un po' presto per dire se siamo cambiati. Sicuramente lo è stato, sicuramente in buona misura lo è ancora, perché la sua influenza, l'influenza del suo movimento associazionista, perché i sindacati sono delle associazioni andate oltre le relazioni industriali, che ci sia un cambio. Per ora è un fortissimo annuncio che ha un'enorme valenza politica da parte del governo, che diventi effettivo anche, diciamo, indipendentemente dalle vicende del governo. Credo che sia un po' prematuro affermarlo. Ecco, nei giorni scorsi c'è stato un incontro al Ministero del Lavoro, se non erro, tra una delegazione ministeriale e i sindacati, i quali hanno definito, in particolare la camussa surreale, questo incontro, perché sostanzialmente dicevano i ministri sono venuti ma non avevano il mandato del governo a trattare. I sindacati, invece, le chiedo un po' provocatoriamente, ce l'hanno il mandato a trattare oggi chi rappresentano in un mutato tessuto economico-sociale del Paese? I sindacati, fondamentalmente, il mandato a trattare, nel senso proprio vero del termine, non ce l'hanno mai avuto, nel modo, almeno per come lo hanno usato. Nel senso che loro hanno trattato le condizioni economiche, non soltanto quelle nelle aziende, ma proprio le condizioni economiche del Paese, anche molto al di là dei loro iscritti. Quindi la risposta a una domanda provocatoria è sicuramente no. E' anche abbastanza singolare che il sindacato si lamenti del fatto che i ministri non avessero mandato a trattare come se quello che dovesse intercorrere tra delle associazioni di fatto, quali sono i sindacati, e il governo debba essere la conclusione di un contratto. Ecco, nella vostra ottica che abbiamo tratteggiato all'inizio, improntata al libero mercato, come dovrebbero funzionare in un mondo ideale, o meglio, nel mondo che a voi piacerebbe assumesse concretezza alle relazioni tra sindacati e governo, questa dialettica? Noi ci piacerebbe che le relazioni fossero negoziate a livello individuale, quindi tra datore di lavoro e lavoratore. Poi è evidente che... Però ci sarebbe una sproporzione di forze? Ci sarebbe una sproporzione, non dimentichiamoci mai che il datore di lavoro senza lavoratori non lavora nemmeno lui, e l'impresa chiude. Quindi una delle grosse responsabilità che a mio avviso ha il sindacato in Italia, ma storicamente, è quella di aver messo su un piano conflittuale, la reazione dei sindacati all'episodio di oggi nella dimostrazione, sul piano conflittuale le relazioni tra chi dà il lavoro, chi fornisce il posto di lavoro e chi poi lavora. In realtà è un rapporto collaborativo, perché le due parti, l'una senza l'altra, non sopravvivono e nemmeno vivono bene. Questo in primo luogo. Quindi la negoziazione tra le parti potrebbe essere svolta in maniera molto più profigua per entrambe se si evitasse questa aspralotta di classe, fondamentalmente, perché storicamente è questo. Secondariamente la negoziazione a livello aziendale sarebbe, da un punto di vista un po' più concreto, di sicuro molto più rappresentativa di quanto non sia quella a livello nazionale. Sotto questo profilo, dunque, come valutate l'operato di Renzi? Adesso per fare un'estrema banalizzazione giornalistica, non è che vi ha quasi superato a destra? Sulla, diciamo, la sua posizione nei sindacati è una posizione a livello politico, quindi a livello di parole molto chiara e molto precisa. Da questo punto di vista si deve dare atto politicamente di un cambiamento di atteggiamento della politica e del governo nei confronti del sindacato. Quindi politicamente è sicuramente un elemento di novità. Dal punto di vista del governo, cioè dei provvedimenti, questa novità ancora deve tradursi in atto. Siete un po' alla finestra, però gli annunci vi piacciono. Alcuni annunci come questi qui. Oh, a proposito di annunci, a proposito di dialetti, che il Tg5 ci dà conto di un'altra piuttosto intensa in atto, questa volta tra governo e denti locali. Si parla di legge di stabilità. Ecco, il dubbio che hanno un po' gli osservatori è che si risolva tutto in una partita di giro, nel senso che il governo non aumenta le tasse, però togliendo risorse agli enti locali, in sostanza obbliga a fare lavoro sporco agli enti locali. Ebbè, questo è un rischio effettivo, un rischio concreto. Ed è uno, ecco, quando l'annuncio non segue l'azione. È uno degli elementi di dubbio di questa legge di stabilità, che ancora dobbiamo leggere, ma per quello che si è potuto vedere dalle prime bozze, è molto diversa rispetto agli annunci. Anche da questo punto di vista, nel senso l'abbassamento delle tasse, in molti aspetti, è più uno spostamento di numeri e lo si vede molto chiaramente proprio sul carico fiscale, che non è ancora attuale, ma che è possibile per le regioni e gli enti locali per far fronte al taglio delle spese. Non hanno... c'è una responsabilità di tutto questo, che non è né di questo governo né di queste regioni. Ed è del fatto che manchi nel nostro sistema un limite alla pressione fiscale. Ecco, legge di stabilità che ha già ricevuto l'ok da Bruxelles dopo, insomma, un po' di elargizioni, di tagli ulteriori. Un ni. Diciamo, un ni. Ecco, la vostra visione sui parametri europei. Non sono forse molto liberisti in questo senso? Mi pare di no, visto che li stanno violando tutti. Sì, quindi mi pare che siano più un modo di impegnare i governi a un uso più a corto delle risorse, e questa sarebbe una cosa sacrosanta, con una difficoltà a farlo per un atteggiamento poi alla fine non proprio di austerity, come si vuol far credere, che rende negoziabili molti aspetti e che dal nostro punto di vista nazionale fa anche un po' pensare che fino adesso, quando si parlava di vincoli di bilancio, pareggio di bilancio, fondamentalmente abbiamo scherzato, perché di questi vincoli non c'è ombra nella legge di stabilità. E adesso andiamo avanti, c'è rimasto il terzo Tg delle 20 da verificare insieme, il Tg della 7, vediamo nei titoli e poi ne discutiamo in studio. Cariche della polizia al corteo dei lavoratori di Terni che manifestavano contro il piano che prevede 550 licenziamenti, 4 operai feriti, Landini che partecipava al corteo furioso, siamo stati caricati senza motivo, il governo deve spiegare quel che è successo, deve rispondere e scusarsi. I fatti diventano immediatamente caso politico, il ministro Guidi promette una rapidissima verifica dei fatti, da Sella arriva la richiesta di dimissioni per Alfano che riferirà più presto alla Camera e in questo momento è a colloquio, ha incontrato al Viminale i leader sindacali, nel PD molte voci per chiedere chiarezza, sindacati unanimi nel condannare la gravità dell'accaduto. E tutto questo mentre continua la polemica durissima tra PD e CGL, in un'intervista la segretaria del sindacato Camusso dice che Renzi è a Palazzo Chigi per volere dei poteri forti, durissima la replica di Pina Picerno, la segreteria PD. Potrei ricordare che Camusso è stata eletta con tessere false o che piazza San Giovanni è stata riempita con pullman pagati. Il sindacato si indigna, arrivano le scuse ma la tensione resta altissima. Il governatore del Veneto, Zaia, scrive a Renzi e all'ambasciatore americano in Italia per la vicenda della quarantena a Vicenza dei militari statunitensi che rientrano dalla Liberia. Ho il dovere di proteggere la mia comunità, non voglio che il Veneto diventi un lazzaretto e chiede che i controlli sui soldati provenienti dalla zona di Ebola non avvengano in territorio italiano. Luciano Violante rinuncia con una lettera polemica alla disegnazione come nuovo giudice costituzionale in corso una deriva che offende le istituzioni. La politica deve tornare autorevole. 5 Stelle chiede agli altri partiti di presentare una lista di nomi per i due nuovi giudici della consulta tutta l'insegna della trasparenza, dicono i grillini. La Ferrari sarà in parte quotata in borsa, l'ha annunciato Marchionne, precisando che sul mercato andrà il 10% dell'azienda modenese. Le azioni saranno quotate negli USA in un altro mercato europeo, forse l'Italia. Negli USA la Fed annuncia la fine degli interventi monetari a sostegno dell'economia, il famoso quantitative easing. Sono quasi 200 i peshmerga kurdi che sono entrati in Siria per cercare di riprendere la città di Kobane, che come si sa è assediata dall'ISIS. Vengono dal Kurdistan iracheno e hanno avuto il permesso di passare attraverso la Turchia. Anche l'Iraq fa parte del mondo, ma siamo dovuti arrivare in fondo alla scaletta del terzo telegiornale delle venti per trovare un titolo su questo argomento. Non di questo, però voglio parlare con lei perché esula un po' dai suoi temi. Parliamo di Marchionne. Oggi c'è questa notizia dello scorporo, di un pezzo della Ferrari che va in borsa. È un personaggio di rottura, parlavamo prima di relazioni industriali. Lui addirittura è uscito da Confindustria. Immagino che sotto questo profilo sia un personaggio che invece ottenga il vostro riscontro, il vostro gradimento. È un personaggio che è una persona che sa fare il suo mestiere fondamentalmente, nel senso sa fare l'interesse dell'azienda che ha chiamato ad amministrare. Da questo punto di vista non può che perseguire gli obiettivi dell'azienda, che molto più spesso sono poi gli obiettivi dei lavoratori, ripeto, di quanto non abbiamo mai voluto credere in questo paese. Mi pare che l'evoluzione che ha avuto la Fiat sotto la sua amministrazione segni un po' il passaggio anche di scelte industriali che ha fatto la Fiat al suo interno. Da una impresa che era molto vicina allo Stato a una impresa che si è messa sul mercato fino ad uscire da quello che molti dicono sia il sindacato degli industriali di Confindustria. Lei prima accennava al grande problema dell'opprimente pressione fiscale nel nostro paese, però Marchionne le tasse non le paga in Italia. Non sarebbe più credibile il suo discorso se fosse soggetto ai problemi degli imprenditori, ai problemi italiani che con tanta vemenza denuncia. Quando sarà più credibile uno Stato che smette di tassare al 60% i propri cittadini forse anche gli imprenditori potranno fare scelte più vicine a quelle dei contribuenti italiani. Anche perché poi il contribuente semplice, il lavoratore che lei dice più o meno è tutelato anche da Marchionne non può fare questa scelta però di pagare le sue tasse all'estero. Sì, ho capito, ma la concorrenza fiscale è quello che per adesso sta consentendo nella poca credibilità che è il nostro paese dal punto di vista tributario è quello che ci sta consentendo di non pagare tasse all'80-90%. Quindi sulla concorrenza fiscale spezzo una lancia a favore. Vediamo i titoli del TG3 e vediamo come alimentano il nostro dibattito. La polizia carica gli operai della Thyssen che manifestano a Roma diversi feriti. Landini picchiati senza motivo del rio Alfano riferirà entro poche ore. Scontro tra PD e Cigiele. Camusso accusa Renzi di essere al governo grazie ai poteri forti. Picerno replica e l'eletta con tessere false e poi la marcia indietro. I comuni al governo con la manovra rischiamo il dissesto. Renzi i saldi non si toccano ma disposti a discutere. Faremo una local tax al posto di troppi tributi. Violante rinuncia alla candidatura, la consulta e parla di deriva che offende le istituzioni. I 5 Stelle aspettiamo un segnale su nuovi nomi. Distruttano il terremoto in Emilia un'azienda risorge producendo un dispositivo per il trasporto dei malati debole. Diventa eccellenza italiana. Dalla Siria e dal Kurdistan iracheno arrivano i combattenti Peshmerga per difendere Kobani, la città da settimane, l'ultima trincea per fermare il califato. Una ragazza gira un video per dimostrare quanto solo moleste le attenzioni maschili proposte ed apprezzamenti per 100 volte solo le dieci ore. Abbiamo più o meno parlato di tutti gli argomenti che abbiamo visto nella scaletta del Tg3, salvo l'ultimo. Qui mi rivolgo non tanto all'avvocato, all'economista, ma appunto alla donna. Anche lei ha fatto l'esperienza di questa ragazza? Davvero è così difficile ancora oggi andare in giro senza essere disturbate? Credo che l'abbiano fatto tutte le donne, lo facciano tutte le donne, con diversità di culture, però diciamo almeno nella parte occidentale del mondo credo che sia abbastanza consueto. Poi ho letto un po' alcuni commenti o titoli di giornale che parlavano, parole forti, ecco anche questo, molestie. Ora di questa centinaia che lei ha conteggiato, credo che di cose offensive vere e proprie, immagino non ce ne siano state moltissime. Possono essere fastidiose anche le più innocue, però sì, succede. E adesso vediamo insieme i titoli del primo telegiornale in ordine cronologico ad essere andato in onda, il Tg di Studio Aperto e l'ultimo alle 20.30 il Tg2. Vediamoli insieme. Poi avremo una piccola sorpresa. Botte e manganellate al corteo degli operai a Roma che protestavano contro i licenziamenti alle acciaierie di Terni. I manifestanti sono stati respinti dai poliziotti in tenuta antisommossa. Ci hanno menato senza ragione, non siamo delinquenti, denuncia Landini, della FIOM. La questura. Volevano occupare la stazione. La Camusso attacca il governo di via spiegazioni. Quella notte mi ha ferito urlando aiutami, sono pazza. È il racconto drammatico dell'uomo scampato alla strage della sua famiglia a Roma, mentre lui si faceva medicare in ospedale. La moglie, ossessionata dalla gelosia, ha ucciso i figli e poi si è tolta la vita. E l'autopsia sul corpo di Veronica, la trentenne assassinata a Catania dall'ex fidanzato senegalese, rivela che è stata accoltellata almeno 60 volte. Avevo deciso di ammazzarla, ha confessato, se mi avesse ancora respinto. La fine misteriosa di Elena Ceste, nuovo sopralluogo nel canale dove è stato recuperato il corpo, trovate altri arresti di donna. Sarà difficile stabilire come morta, dicono i legali della famiglia, che in una conferenza stampa spiegano bisogna proteggere i genitori e i quattro figli piccoli. Soffre di tetraparesi spastica e comunica solo con gli occhi, ma Laura, questa 23enne napoletana, non si è mai arresa. Tanto che è riuscita a diventare dottoressa in matematica con 110 e lode. Ha imparato a leggere a tre anni e adesso ha coronato un sogno. Salgono a due le vittime della legionella nell'Interland milanese. Dopo il pensionato di Bresso, una donna è morta a Cinisello Balsamo. Allarme dei ricercatori, sono 12 mila le epidemie attive in tutto il mondo. Colpa di virus e batteri che si evolvono e attraversano le frontiere. Il corteo a Roma degli operai delle acciaierie di Terni. Scontri con la polizia. Landini, il governo si scusi. I gruppi parlamentari chiedono ad Alfano di riferire in aula. Duro scontro tra PD e Cigiele. Lacamusso accusa Renzi di essere salito a Palazzo Chigi grazie ai poteri forti. Replica Pina Picerno. Tu eletta grazie a tessere false. Poi il dietrofront. Francesco è un papa rivoluzionario. Dà una speranza alla chiesa. Al Tg2 parla Evo Morales, il presidente campesino rieletto per la terza volta alla guida della Bolivia. Dall'embargo dell'Occidente contro la Russia, quello storico degli Stati Uniti verso Cuba, quando una misura commerciale può influenzare la storia. Eccoci qui. La piccola sorpresa a cui accennavamo prima si è materializzata in studio nelle sembianze di Alessandro Sortino, direttore creativo di TV2000. Benvenuto. Sei qui perché questa per la nostra televisione è una serata particolare. Parte un nuovo programma, Revolution. Revolution, nel senso di rivoluzione anche dei corpi, no? Cambiamo la prospettiva. Oggi abbiamo raccontato tantissime notizie, scontri, guerre, odi all'interno della sinistra, no? Ora, proviamo a cambiare lo sguardo, a rivoltare tutto e guardiamo le cose che accadono dal cuore delle persone. Cosa si prova? Cosa provano le persone quando si verificano i fatti di cui parliamo tutti i giorni? In questa trasmissione noi guarderemo le cose dal cuore delle persone che le vivono. Per questo, Revolution, poi invito le persone a fare un gioco. Scrivete su un foglio di carta questa parola, Revolution, e trovate dentro la parola amore, perché c'è. Ecco, e questo è il motivo per cui non lo chiamate talk show, ma l'Eastern Show è un programma che si pone in ascolto, che sollecita più che reazioni, domande o sbagli. Sì, perché c'è un inquinamento delle opinioni. Le opinioni sono importantissime, la libertà d'opinioni, però ce ne sono tantissime. Se uno fa l'opinionista, gli viene subito voglia di dire come la pensa. Noi invece vogliamo ascoltare le storie. In questo programma cercheremo di ascoltare le storie che nascono dalle ferite, perché crediamo che c'è non la certezza, ma la possibilità di un riscatto. Ci dai qualche anticipazione di qui a pochi minuti? Ormai so che Arianna Ciampoli e Antonio Soviero stanno facendo le ultimissime prove. Di che si parla stasera? Si parla del perdono. È possibile perdonare? È possibile quando si compiano atti molto, molto gravi, un omicidio, una strage, accettare il perdono? Questa è la domanda che facciamo. Lasciamola aperta per ora. Grazie per questa anticipazione. In bocca al lupo ad Arianna e ad Antonio. Grazie anche a Serena Sileoni per essere stata con noi questa sera. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Rimanete con noi e vedremo, sentiremo com'è difficile perdonare e perdonarsi. Revolution tra qualche minuto comincia. Arrivederci. Grazie a tutti.